Siamo qui con Nicole Beltramini, l'autrice di 101 cose da fare a Milano e poi cosa ne pensi di un evento come Book Crossing organizzato in una città che tu conosci bene come quella di Milano? Ma io ho partecipato effettivamente a diversi Book Crossing, trovo che sono sempre delle iniziative molto carine In particolare sì, mi è capitato anche di trovare magari dei libri strani, speciali, tra cose scartate da altre persone perché ovviamente abbiamo tutti dei gusti diversissimi Carina anche questa, mi è piaciuta proprio come è stata organizzata di fronte allo statale Bellina, bellina anche come idea Sì, vi apprezzo molto, è stata molto carina e voi siete tutti carinissimi effettivamente Grazie, che libro hai portato da scambiare? Se c'è dietro magari qualche significato particolare e che libro hai preso? Non ho ancora preso un libro, avevo portato da scambiare Tom Robbins, Natura morta con picchio che è effettivamente uno dei miei libri preferiti di tutti i tempi, proprio una delle mie pietre miliari L'ho letto quando avevo 16-17 anni e da allora è rimasto uno dei favoriti storici Infatti ne ho un'edizione in inglese e due in italiano, è il motivo per cui l'ho portato Adesso vado a vedere cosa prendere Ok, per i nostri lettori un consiglio di lettura per quest'estate? Allora, facciamo una cosa, ne diamo uno moderno perché quello che sto leggendo io è lunghissimo Si chiama Schippi Muore, l'ha scritto Paul Murray, è dell'edizione ISBN ed è una figata storica È veramente bello, è scritto molto molto bene, la copertina promette un libro che sta tra Donnie Darko e il Giovane Holden Bene, effettivamente ci sta Invece dando un consiglio antico, effettivamente ragazzi, Salinger ha scritto quattro libri Oltre al Giovane Holden ne ha scritti altri tre Leggeteli perché sono tutto quello che c'è da sapere sulla vita, sulla letteratura e su qualunque cosa Un'ultima domanda, abbiamo fatto un evento che va un po' al di là del book crossing Pensi appunto che sia giusto promuovere iniziative in cui il libro non è solo un momento di solitudine Ma anche di scambio, anche appunto in virtù del libro che tu hai scritto In cui è stata anche rivalutata a Milano come un luogo per eccellenza Non considerato una bella città in senso assoluto Ma che grazie al tuo libro molti milanesi in realtà hanno riscoperto Credo sia stata la cosa più bella dell'aver scritto questo libro Proprio le reazioni delle persone Credo profondamente nei libri Sono una cosa, sono un bene incredibilmente prezioso per me Io ne ho sempre fatto diciamo buon uso Fin da quando ero piccola, me li sono sempre portata dietro Gli ho sempre trattati male, messi nelle borse, distrutti, sottolineati Rivedute le sottolineature dopo anni, vedere se qualcosa era cambiato E tutte queste cose Io odio quello che sta succedendo in questi giorni Tutto il concetto degli iBooks e dell'iPad E di tutte queste cose, l'editoria è morta No, l'editoria è morta non esiste I libri devono continuare ad andare avanti Sono una cosa che non può essere sostituita E sono assolutamente convinta che le persone che amano i libri Non li sostituiranno mai con altro Perché non è possibile sostituire una cosa così Una cosa che ti dà modo La parola scritta è oltre che il fuorileggio definitivo Perché ti permette di superare la censura Come le immagini non te lo permetteranno mai Riescono a vedere le cose, riescono a vedere i film Riescono a vedere le foto, riescono a vedere le immagini Riescono a censurare quello, ma la parola scritta non riescono a censurarla Io trovo che sia importante qualunque iniziativa Che riesce a portare avanti l'editoria, i libri E la parola scritta in genere Quindi è un po' il motivo per cui io continuo È un mestiere che porta anche tanta amarezza Che io non volevo fare Però effettivamente la risposta della gente è incredibile La risposta di Milano è ancora più incredibile È una città splendida che da questo punto di vista reagisce come, reagisce bene E a me piace proprio tanto E spero di poter continuare a scrivere Va bene, grazie mille allora Grazie a Michol Ciao